Bella ragazzi da AssoloBicicamezone ed ecco qui un nuovo video tutorial per come scaricare Trine2 Bene bene, prima di tutto dopo averlo scaricato da Utorrent il link lo metto nella descrizione clicchiamolo ok prendiamo tutti i QR tasto destro estraia qui aspettiamo che estraia e metto in pausa che forse è meglio bene, dopo averlo estratto qui vi sfonderò a falliso dopo voi dovete andare a prendere the mundus lite e creare una cartella dd o scsi la stessa cosa qui che avete voi falliso dovete semplicemente trascinarlo qui dopo averlo trascinato vi comparirà quest'icona qua quest'icona cliccate poi qui cliccate qua monta e fa montare all'immagine quando andiamo sui console di setup italiano avanti vi consiglio per programmi per 86 avanti crea un'icona sul desktop ma credo che la dovremmo andare a concentrare poi installa e ci sarà poco ma io metterò sempre in pausa bene bene dopo averlo installato vi comprerà di installare la directx noi logicamente la sfondiamo e la installiamo accettiamo avanti avanti ok e rimetto in pausa bene bene dopo aver scaricato la directx facciamo fine o andiamo su train2 nel desktop proprietà apri per questo file e dovremo ritornare da la cartella precedente anzi no da demontools lo rimontiamo dopo averlo rimontato andate su apri cartella e visualizzate i file skydrove ecco qui questi aspetta un minutino questi file andranno messi qua spostate e sostituire ora questo qua si può cancellare ok e guardiamo se parte e mi sembra che è partito si bella che è partito ok il gioco è partito eeeh anche se se è 68 bit è la stessa cosa mi partirà lo stesso infatti i miei 64 bit eeeh cliccate il tasto destro cliccate collegamento e lo mettete sul desktop spero che questo video sia stato utile mettete mi piace commentate iscrivetevi sul mio canale e vi saluto bye bye bye